I see trees are green, red roses too, I see they're blue, for me and you, and I sing to my sing, for a wonderful world, I see skies are blue. A Sala Rossa il meeting organizzato dall'onorevole Vincenzo Figuccia apre la concertazione sulle politiche attive di sviluppo locale, dunque la programmazione europea, attingere i fondi dell'Unione Europea per creare sviluppo e reti territoriali. Un incontro molto operativo che ha assunto le caratteristiche di quel welfare generativo a cui si faceva riferimento, il concetto di una comunità educante al centro di un progetto che mette in questo caso attorno ad un tavolo il direttore generale dell'AFP, esperti in politiche sociali a partire dal dottore Rizzuto, ma anche gli istituti penitenziari con la presenza del direttore del carcere del Lucerdone, ma la Caritas con padre Mario ed imprenditori, imprenditori che si sono caratterizzati nel mondo dello sport, nel mondo del turismo, a partire ad esempio da Totò Riolo. Un tavolo credo molto attento che ha visto protagonisti una serie di soggetti che da qui in avanti, anzi a partire già da domani, dovranno mettersi al lavoro, perché chiaramente questo è stato un primo incontro operativo, ma da domani tutte le schiede raccolte faranno da contenitore, dal quale antingere, per rendere operative queste esperienze, in modo da partecipare agli avvisi e creare non solo sinergie, ma attività e operativizzazione nel territorio. Dunque, tema di quest'oggi, politiche di programmazione europea per creare opportunità di lavoro, per creare sviluppo. Sì, la volontà è quella di creare un sistema, un sistema virtuoso che metta dentro tutti gli attori del territorio che hanno voglia di sperimentarsi e di creare un volano di sviluppo per il loro territorio, mettendo a sistema le programmazioni attuali, che con tantissime risorse a disposizione, spesso sprecate, possono realmente contribuire a questa crescita del nostro territorio. E dunque un modo è accedere ai fondi dell'Unione Europea? Ma, dico, non è così difficile. Il problema è che bisognerebbe conoscere, diciamo, di queste opportunità, nel senso che spesso sono a pannaggio delle istituzioni e le istituzioni hanno difficoltà, diciamo, a diffondere sul territorio, hanno anche difficoltà gestite. Allora, creare questa sinergia pubblico-privato può essere sicuramente significativa nel raggiungimento dell'obiettivo, che è la spesa dei fondi e l'utilizzo delle risorse. Ho accolto volentieri l'invito dell'Onorevole Figuccia e ho verificato, sperimentato in questo tavolo di lavoro che c'è molta voglia di lavorare, di servire, e di servire la gente, ognuno per le sue competenze. E mi è parso di percepire, anche attraverso questi suggerimenti dei bandi, delle nuove opportunità di lavoro, che questo lavoro di sinergia, quindi comune, scuola, agenzie educative, parrocchie, mettendosi insieme in un lavoro, appunto, di sinergia, di collaborazione, tra le varie istituzioni, le varie agenzie educative, il pubblico, quale è il comune, la gente di buona volontà, i valori che custodiamo nel nostro cuore, nella nostra radice, di buoni siciliani, di buoni cittadini e di buoni cristiani, secondo me possiamo dare qualche risposta ai tanti giovani, perché io sono testimone in una parrocchia, come in tante parrocchie, e come veniva sottolineato, sono testimone di tanta gente che si allontana, che va a cercare lavoro fuori e quindi le nostre comunità, i paesi, ancora prima che la parrocchia, si svuotano e già noi vediamo le nostre strade deserte, abbandonate e rischiamo di restare gli anziani, senza futuro, senza giovani, chi va in Germania, chi se ne va in America, chi se ne va in Nord Italia, per andare a guadagnare un po' di pane, che potrebbero benissimo guadagnarlo qui nel nostro territorio, a parte il fatto che la testimonianza che ricevo è questa, se ci fosse, mi permetto di dirlo, se ci fosse un giovaglio in Sicilia, che motivo avrei io, perché mi innavissagliere in Germania, che ho la famiglia, che ho i piccirini, che ho i miei mogliere, e questo, vedete, tocca il cuore, quindi che benvenga allora la politica impegnata, il comune, le parrocchie, l'istituzione, perché? Perché fare del bene, dare la possibilità alle persone di aiutarsi aiutando le persone. Vediamo appeso un cartello molto significativo, che dice, no, alla ZTL? È logico, mi avete detto una cosa significativa, guarda che c'è in piazza, è tutta vuota, noi non stiamo lavorando, siamo fermi e la gente non viene a ballarò per questo motivo, perché non è buono di posteggiare, in modo di entrare in centro storico per far venire, a fare la spesa qua, perché c'ha paura, perché prendere un Valvali di 164 euro, dice, io mi devo andare a andare su un mercato, un mercato commerciale, e evitò di schiarli di prendere una multa stupida, perché è una multa stupida questo, anche perché vedo una macchina posteggiata a fermo, loro continuano a fare dai Valvali senza spiegazioni. Ballarò, mercato storico di Palermo, che subisce oggi una depressione economica a casa della ZTL? Il vero problema è che tutti i mercati storici stanno soffrendo a causa di un provvedimento iniquo, noi qui tra l'altro viviamo un doppio binario, da una parte c'è questa direttiva Borchestein, che rischia di voler trasformare i centri commerciali, i centri storici, in veri e propri centri commerciali, dall'altro questo provvedimento che sembra fare il paio con il primo. Allora non vorrei che da parte dell'amministrazione ci sia la voglia di andare a patti con l'Europa per trasformare questo mercato storico, insieme a quello del capo e della voceria, in tre grandi megastore. È chiaro che la città di Palermo non ci sta, non ci stanno loro che sono quelli che ci lavorano e che grazie a questo lavoro ci campano la famiglia, ma non ci stanno tutti i palermitani, che ovviamente utilizzano questo spazio come un luogo di aggregazione, come un luogo dove venire a fare la spesa da sempre, sapendo che nei mercati storici c'è buona merce e perché no a buon prezzo. Pescivendo lo storico di Ballarò, suppongo. Da qualche anno che lavoro nel mercato di Ballarò. Quali sono state le difficoltà a casa della ZTL? Il lavoro è calato e tra l'altro rischiamo di perdere il lavoro perché avendo meno, diciamo, l'afflusso di persone è diminuito in quanto con la ZTL, non essendoci parcheggi, la gente per venire a risparmiare un 10 euro rischiano di prendere un verbale e tante altre cose evitano di venire qua. Il calo è stato notevole e infatti eravamo quattro opere e adesso siamo in due. E diciamo che bene o male ce la facciamo. Dunque ci sarebbero comunque meno guadagni e più tasse? Meno guadagni e più tasse da parte di un'amministrazione che è sorda ed è cieca, che non capisce che sta dando un colpo duro non solo ai commercianti, ma a tutti i palermitani che non possono più accedere a certe zone della città. Questo è un mercato storico che ha una storia davvero oltre che decennale. Parliamo di oltre mezzo secolo. Qua ci sono una serie di commercianti, di artigiani che hanno fatto la storia di Palermo, una storia che amiamo e che non vogliamo lasciare. Volevo dire un'altra cosa. Io stamattina ho letto una lettera del sindaco alla telegiornale di Sicilia, a TGS, che dice che sono stati fatti atti violenti, criminali, mafiosi. Noi nel 25 ottobre abbiamo manifestato il nostro malessere e il discorso per proteggere il nostro lavoro. Non ci sono stati atti di violenza, né atti criminali e né atti mafiosi. Noi abbiamo solo manifestato il malessere di un qualcosa che se continua quello che sta avvenendo adesso noi perdiamo il nostro posto di lavoro. Nient'altro. Niente di tutto questo. Se ci sono stati dei danneggiamenti che poi hanno diverto della segnaletica, dico può capitare ma da qui a dire che siamo criminali, siamo vandali, siamo mafiosi, ce ne vuole. Ce ne vuole tanto. Noi siamo solo e esclusivamente lavoratori che ci guadagniamo il pane dalla mattina alla sera. Stamattina al Policlinico accadrà qualcosa di interessante. Verrà aperta una stanza del Policlinico. Perché? Sì, oggi per noi è una giornata come associazione, una giornata importante perché oggi ci viene consegnata dal responsabile del Policlinico una stanza che adebiremo all'utilizzo della prevenzione e della cura dell'obesità. Innanzitutto come centro di ascolto per chi ha qualsiasi problematica, vuole anche approcciarsi, iniziare un percorso come prevenzione per l'obesità. Siamo un'equip che lavoreremo tutti insieme in equip, nutrizionista, psicoterapeuta, curiugo bariatico, la nostra presidente. Perciò per oggi per noi è un'occasione importante, un inizio, un cammino verso la direzione di cura e prevenzione per l'obesità in questa città nostra palermitana. Credo che si tratti di una giornata molto importante perché questa struttura ospedaliera, il Policlinico, aprirà le porte all'associazione, quindi alla società civile, ma anche ai professionisti che attraverso un approccio multidisciplinare cercheranno di incontrare le svariate esigenze del territorio, della popolazione cittadina palermitana. e non solo perché il Policlinico sicuramente raccoglie le stanze di tutto il territorio della provincia di Palermo. Credo che il problema dell'obesità sia un problema molto diffuso e lo dimostra l'enorme popolazione che oggi si sottopone a interventi chirurgici e quindi crediamo che sia estremamente importante agire anche a livello di prevenzione, non soltanto di cura, che è una fase chiaramente successiva, ma soprattutto a livello di prevenzione e di diffusione di buone prassi. Qual è stata la sua esperienza in questo senso? La mia esperienza è stata una delle più belle perché ringrazio di Dio ho avuto un buon risultato dell'operazione bariatrica. Ora finalmente dopo tante spariate problematiche che qua in Sicilia ci sono e grazie a Sabina, grazie alla nostra Presidentessa, grazie alla Concezionista, alla Psicologa, e grazie all'Associazione ci siamo fissate muovendo in maniera ottima che andremo incontro ad avere quello che non abbiamo mai avuto, un percorso psicologo, un percorso bariatrico, un percorso dietista e nutrizionista, quello che qui comunque non abbiamo mai avuto. Ecco, da psicologo quanto è importante seguire un paziente che attraverso un percorso difficile come può essere quello dell'obesità? È fondamentale, soprattutto è fondamentale non abbandonarlo subito dopo l'intervento perché ci si chiede spesso di fare delle valutazioni preliminari agli interventi di chirurgia bariatrica, per cui abbiamo un ruolo appunto diagnostico. In realtà il momento cruciale è il dopo, perché comunque dopo ci si scontra con la nuova immagine corporea, con tutto quello che ha a che fare con la nuova alimentazione, con un nuovo mondo di relazioni sociali, per cui credo che la cosa più importante sia la continuità nel seguire questo tipo di pazienti. Poi, questi pazienti solitamente sono abbastanza uniti e trovano su internet, nelle realtà virtuali, la possibilità di confronti e questa è una cosa bellissima e interessante. Ritengo comunque che sia importante farli uscire dal mondo virtuale e creare una situazione reale. Oggi è un giorno importante, il giorno che aspettavamo. Finalmente avremo un punto di risolto, mutuo aiuto, un punto dove obesi, ex obesi possono incontrarsi realmente per poter condividere, stare insieme, uniti e anche per potersi supportare. E dopo tante promesse di questo governo regionale, Pippa ancora non stabilizzati? Intanto vi dico ciao, ti dico ciao, come va? Ma non te lo posso dire, ma lo devo chiedere a me, perché mi fai ricollegare al passato di 15 anni di storia che non posso stare a raccontare, ci vogliono puntate per fare questo, non è facile. Devo dire che non arriva, non arriva, io spero che non sia una chimera, perché in questi anni ci stiamo deteriorando giorno dopo giorno, io ci tengo a dirlo, provengo da un infarto per il 2 novembre, ma ringraziando a Dio non è stata la festa dei morti, ma è resuscitata Alfa d'Arcuri e pronto sempre per lottare. Anche perché vorrei un giorno poter chiudere i occhi e dire finalmente il governo regionale, non dico di avermi stabilizzato o di averci stabilizzato tutti quanti nella pianta organica che non mira a quello, ma sicuramente darci almeno una serenità come eravamo una volta, eravamo una società, ce l'hanno tolta. Dico, sono 15 anni, dietro tutto questo ci sono i sogni, le speranze delle famiglie. Dico, io faccio l'invito al governo regionale di affrontare seriamente il problema. Grazie. Ed è sempre molto dura la battaglia dei lavoratori di questi tempi. Intanto ci tengo a dire che in realtà è stata una visita all'amico Alfredo, che viene da un momento un poco complicato, perché è stato in ospedale, ma si è ripreso. Possiamo dire che si è ripreso, lo troviamo qua abbastanza in forma. Va bene. Certo c'è ancora da lavorare. La questione del bacino è una questione che questa amministrazione sta prendendo troppo sotto gamba, è una questione che vede rinviati, dopo rinviati, i pagamenti che arrivano con la cosiddetta mesata morta, perché praticamente lo stimento gli arriva dopo un mese, ma soprattutto vede rinviata rispetto alla questione della stabilizzazione. È chiaro che ci sono dei percorsi possibili sul piano giuridico, sul piano del riconoscimento dello status, però mi sembra che da parte del governo ci sia voglia di affrontare tanti altri ambiti di intervento, tanti altri bacini di precariato storico, senza però occuparsi di questo. Certamente questo non ci fa demordere completamente. Se Alfredo è riuscito a combattere rispetto al tema della vita, vediamo se noi non dobbiamo combattere per questo. Sarò veloce, sarò veloce. Io quando ho cominciato questa battaglia, pensavo a 118 kg, ne ho pressi 40, mi è venuto il diabete, mi è venuto un infarto, lotto ogni giorno, lottiamo, credo, tutte le famiglie, per avere quel minimo di stabilità o quantamente vorrei avere la progettualità di poter dire a mio figlio tu puoi studiare. Perché si parla delle famiglie, non è di secondaria importanza, è il futuro delle famiglie che è messo in gioco. Perciò io credo di fare un appello alla classe politica di vedere veramente il valore delle famiglie. È arrivata questa vittoria sofferta, grazie al nostro pubblico, grazie ai nostri sacrifici, è arrivato anche il mio gol, il gol del capitano, ora pensiamo direttamente alla prossima e ci godiamo questo momento particolare. È stata una partita molto sofferta, loro sono una buona squadra, per questo hanno 12 punti, sono lì sopra in classifica nelle prime, però oggi ho visto la mia squadra, la nostra squadra, tutti i ragazzi dal primo all'ultimo ho visto molta volontà, molta forza di sacrificio. L'abbiamo cercato questo risultato perché per noi era troppo importante, per fortuna all'ultimo ci abbiamo creduto e ce l'abbiamo fatta. Grazie anche ai tifosi che ci hanno sostenuto perché non è facile anche giocare con delle belle squadre. La gente quando ci incita abbiamo noi uno stimolo in più, facciamo anche se stiamo stanchi però facciamo la corsa in più per cercare di fare anche contenti loro e contenti anche noi soprattutto che facendo i risultati il gruppo cresce, la gente ci comincia a seguire e cerchiamo di fare questo. Però adesso stiamo con i piedi per terra, non abbiamo fatto niente, la partita si può vincere e si può perdere. Dobbiamo continuare su questa strada e spero di prenderci belle soddisfazioni. Abbiamo qui con noi il mitico Giacomino Niosi, una leggenda del campo Fazzino qui di Borgo Nuovo. Qual è stata la sua esperienza qui? Allora come io lavoro faccio il massaggiatore però devo precisare una cosa che grazie a questa persona che è qua, il signor Angelo Figuccia, mio figlio è cresciuto in questo campo. Grazie sempre a lui e con la famiglia Fazzino che l'hanno portata avanti. È stato il primo cacciatore ad essere venduto in Serie A e in Serie B alla Salernitana. Adesso ha l'età di 34 anni, fa l'allenatore a Iese e continua sempre a giocare. Io sto sentendo un gran piacere di cuore vedere Figuccia qua vicino a noi e vedere la squadra di colore di Borgo Nuovo, il rosa e nero, perché mio figlio è cresciuto qua, come le ripeto. e mi sento un pochettino emozionato. E vediamo anche il signor Angelo. Perché è stato lui a portare avanti pure il mio figlio assieme al signor Ferrante che a quell'epoca è qui vicino, Giuseppe Ferrante, che si trovava pure qua. Avevamo una prima categoria e poi in promozione, lui aveva l'età di 14 anni e Figuccia appena l'ha visto ha visto le qualità è come te vai al mercatino, compri quella merce del mercatino, ma se vai a comprare una merce, compri buona, prendi un dolce gabbana, un trussardi. Allora mio figlio è cresciuto qua, è tutto qua. Ricordo che giocava con Pirrotta, con Aiello, c'era la buonanima di papà di Rosario Fazzino Vincenze, il vecchio presidente di Borgo Nuovo. E ci siamo divertiti quell'anno e ora credo che vedendo tutto questo pubblico e queste persone di nuovo accanto a Borgo Nuovo, sempre grazie ad Angelo Figuccia, lo voglio dire che non ci ha mai abbandonato, io ritornerò di nuovo a Borgo Nuovo, senza pretese, perché è una squadra che tengo nel cuore. Penso sempre a mio figlio quando era ragazzino. Dei suoi impressioni su questa nuova squadra giovanile di Borgo Nuovo? Ma io adesso da lontano non li vedo bene, ma tra questi sono 6-7 ragazzi che a suo tempo erano con me nei giovanissimi, quindi all'età di 12-14 anni. Vedo che giocano benino, anche se manca la condizione atletica ancora. Questo mi fa molto piacere che si crea anche questo movimento qui in questa borgata dove c'è bisogno di curare gli aspetti sociali. Dunque, Borgo Nuovo, questa squadra può raccontare davvero una storia immensa. Con Giuseppe siamo un poco avanti nell'età, tuttavia però quando eravamo ragazzi siamo cresciuti in questo territorio e ci siamo ritrovati qua ad aiutare, come dice Giuseppe, educare soprattutto i ragazzi. Ci ritroviamo adesso grandetti nell'età ancora qua a fare il tifo per i nostri ragazzi. Come ti trovi a giocare nella squadra di Borgo Nuovo o nel campo Fazzino? Allora, io mi trovo benissimo perché sono anche della zona, quindi la sento mia la squadra. Penso che piano piano stiamo migliorando e stiamo andando avanti, come infatti stiamo cominciando a vincere e speriamo che vinciamo anche fuori casa e sperando di andare avanti. Allora, non essendo della zona, vengo da Piazza Guadagna, quindi è un viaggio già arrivare qua. sinceramente all'inizio non è stato molto facile adeguarmi alla squadra, ai miei compagni, ma piano piano siamo tutti ragazzi a posto e quindi è stato facile ambientarmi nel gruppo. Quindi hai questa passione grande per lo sport. Esatto. Quindi una squadra davvero, quella di Borgo Nuovo, piena di talenti e con tanta voglia di fare? Piena di talenti, non ha importanza da dove arrivino. Uno ha detto di non essere del quartiere, l'altro ha detto un'altra cosa altrettanto importante, che è quella legata al fatto che a Borgo Nuovo c'è nato, c'è cresciuto e che la squadra la sente sua. Certo, questo è, devo dire, un sentimento di orgoglio, questo non lo dobbiamo nascondere. Anch'io sono di questo quartiere, ci siamo nati, ci siamo cresciuti e quindi è bello immaginare che per Borgo Nuovo ci sia un'opportunità che comunque ovviamente si estende a tutta la città. Si estende a tutta la città in funzione del ruolo che lo sport può avere nell'aggregazione del mondo giovanile, ma anche in funzione del fatto che perché no possano arrivare dei risultati importanti. Sono tutti ragazzi in crescita, giovanissimi, che in questo primo anno stanno affrontando la prima categoria, ma sono anche ragazzi con i quali potremmo anche immaginare di portare avanti dei progetti che vanno anche al di là del calcio. Ragazzi che si devono affacciare al mondo del lavoro e che quindi lo fanno con delle aspettative che sono legate anche alla loro età. Certo, se in tutto questo riuscissimo nel giro di un paio d'anni a portare la squadra quest'anno a fare un bel campionato, nel frattempo poi negli anni successivi a salire di categoria, perché non pensare a progetti che ci consentono di fare calcio a buoni livelli. A noi ci interessa soltanto che si divertono, giocano e le aspettative partita dopo partita lo vedremo. È comunque una squadra che sta andando abbastanza bene. Sì, abbiamo cominciato la preparazione un po' in ritardo, però diciamo ci stanno dando delle soddisfazioni abbastanza buone. Dunque qual è la riflessione che avete fatto questa sera? Questa sera che i ragazzi si ritrovano diciamo tutti assieme per per affiatarsi di più continuare a sperare che quest'anno per i play-off. La squadra comunque va abbastanza bene, ha portato a casa anche tante vittorie. Diciamo che non ce l'aspettiamo neanche noi perché abbiamo iniziato il ritardo, neanche abbiamo fatto preparazione atletica, quindi già è un'impresa per noi questa. stasera siamo qua dopo questa vittoria che abbiamo fatto domenica con Cis San Fratello, sono contento di questo gruppo, la cosa positiva che sto vedendo è l'affiatamento fra di loro che è una cosa fantastica. Dunque garantire la qualità dei servizi rappresenta la chiave di successo per tutti gli imprenditori? Assolutamente, ritengo che l'opportunità che viene oggi regalata qui a Catania all'interno di questo convegno che mette assieme gli albergatori, i ristoratori sia un'opportunità che il territorio deve raccogliere, un'opportunità che tra l'altro fa il paio con questa idea dell'Agenzia regionale per la coesione e la solidarietà e lo sviluppo che coinvolgerà gli operatori per accedere ai finanziamenti comunitari e creare occasioni vere di lavoro e di sviluppo per la Sicilia. E' un paradosso immaginare che le strutture ricettive non siano adeguate per affrontare questa questione, i dati dicono che circa 25.000 utenti considerati un campione di fatto raccontano che un terzo di loro non è soddisfatto, probabilmente in Sicilia il dato rischia di abbassarsi, ovviamente il target di riferimento non è legato soltanto alla questione delle strutture della loro capacità di rendere un servizio all'insegna della pulizia. I dati raccontano che un'assenza di infrastrutture, un'assenza di una rete di sostegno e di supporto a fianco delle strutture alberghiere purtroppo rende il cliente insoddisfatto. I dati però raccontano anche che c'è una grande spinta da parte degli imprenditori del settore, quindi ristoratori, alberghieri, di mettersi al passo con le esigenze del tempo che possono rappresentare ad esempio parlando della Sicilia una Sicilia che ce la può fare attorno a questo grande business, questa grande opportunità di crescita per il territorio che si chiama per l'appunto turismo. Certo, un turismo che si organizza attorno all'idea di destagionalizzare, un turismo che si organizza attorno a strutture inserite ad esempio all'interno di aziende agricole dove collocare magari bungalow dove creare degli spazi benessere attorno alla natura attorno a quello che il buon Dio in Sicilia ci ha voluto donare. Tutto questo senza dimenticare perché ovviamente rappresentano un volano per il turismo siciliano le strutture a 4 stelle a 5 stelle che insistono nel nostro territorio e che necessitano non sopporto. Ultima cosa legata a quest'idea che abbiamo appena lanciato che è quella di un'agenzia regionale per la questione della solidarietà e dello sviluppo un'agenzia che mette assieme gli imprenditori lo faccia facendoli affiancare alle istituzioni e creando pertanto l'opportunità proprio in questo 2017 che è l'anno europeo del turismo sostenibile e dello sviluppo per poter accedere ai finanziamenti comunitari e creare un network di sviluppo vero per la Sicilia che cammini sulle gambe del turismo. Qui nel centro fieristico Etnapolis di Catania si è svolto un meeting sull'igiene quindi l'igiene come elemento fondamentale nelle strutture ricettive. Allora noi siamo d'accordo deve essere il nostro bigliettino di visita del pubblico esercizio e dell'albergo presentare naturalmente il tutto al turista che viene a visitarci perché rimane impresso tutto quello che naturalmente è efficiente e come diceva qualcuno il bigliettino di visita è il nostro bagno che viene visitato dal turista e allora oltre alla bellezza del locale o dell'albergo sicuramente deve esserci un senso di pulizia e di cultura anche alla pulizia che porta sicuramente la targa Sicilia. I see trees are green red roses too I see them blue for me and you and I say to myself for the wonderful world I see skies are blue